Quest'anno hanno tutti voglia di ripartire, quindi abbiamo fatto il pieno. Su il sipario sulla 47esima edizione della mostra mercato dell'artigianato della Valtiberina Toscana che animerà il borgo medievale di Anghiari da venerdì 22 aprile a domenica 1 maggio. Quest'anno l'elemento ulteriore è anche la collaborazione con la Fondazione Intour che ci darà una mano nel marketing territoriale, nel promuovere il territorio di Anghiari e naturalmente le iniziative dell'artigianato. Non si può parlare di un'edizione della ripartenza perché anche nei due anni di pandemia la manifestazione è sempre andata in scena seppur con una scaletta ridotta, ma stavolta si torna a pieno regime. La città, il borgo di Anghiari è ovviamente conosciuto in tutta Italia e non solo, quindi è anche per noi un orgoglio per presentare non solo le nostre produzioni che sono di altissimo livello ma anche gli altri aspetti a cominciare da prodotti enogastronomici e soprattutto l'accoglienza che ovviamente i flussi turistici che genererà sarà ben felice di rappresentare al meglio. Quindi per noi è una grande festa e ripeto è una festa che guarda al futuro con ottimismo. Gli oltre 50 operatori dell'artigianato provenienti da tutta Italia sono dunque pronti per mettere in mostra le loro eccellenze di tutti i settori. La qualità è infatti il grande punto di forza della rassegna anghiarese. La cosa forse più evidente è stata che dopo questi due anni di fatiche, nella quale siamo comunque andati avanti, siamo riusciti anche a fare quasi, non dico una selezione, ma una scelta fra gli artigiani tra le eccellenze.